www.castelloincantato.it La notizia Corre in rete 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 Ciccio amico, la protesta continua oggi 30 gennaio 2014, notizie da Palermo? Le notizie che arrivano da Palermo, da quello che mi dice Osvaldo e anche Lillo non sono per niente rassicurante. La cosa che andremo a fare con questa assemblea è fare il punto della situazione e vedere eventualmente di passare ad azione più ingesiva. Se la cosa si mette male dobbiamo vedere quello che c'è da parte dell'azienda la risposta è certo. Ho da un ungiare che è la petizione cartacea, siamo a 11.138 firme e quella online a 1.051. L'azienda risponde e risponde bene. Ci hanno inviato anche da Torino un 65 firme raccolto da due cittadini con un'accorata lettera che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook. hanno girato un'intera giornata per Torino, quando c'è freddo, per raccoglierlo. Nella lettera ci raccomandano che non si deve mollare. E anche un mercato al popolo di Mussomali deve insaldare le file perché l'ospedale è una cosa preziosa per loro. I musulmonesi sparsi nel mondo seguono con ansia le vicende dell'ospedale di Mussomali. Li seguono e rispondono anche bene. C'è anche dell'impegno da parte di queste persone nella raccolta delle firme, negli interventi che fanno anche scrivendo sulla nostra pagina ufficiale. Mi preme anche leggerla questa lettera che tra l'altro è una cosa... Torino 29 gennaio 2014, carissimi Francesco e tutti i componenti del gruppo, io e Giuseppe Andinoro, parlando del più del meno, l'altro giorno abbiamo pensato di raccogliere firme per l'ospedale di Mussomali. I tempi erano ristrettissimi e dovevamo raccogliere il più firme possibile nell'arco di uno o al massimo due giorni. Sapevamo che l'impresa era alta, ma partendo dal principio che mal che andava una decina di firme lavoravamo solo con le nostre due famiglie e sarebbero bastate comunque, siamo partiti tranquilli e fiduciosi. Abbiamo girato Torino e provincia, in Lurgo, in Lungo e in Largo, dalle nove per poi terminare all'evento. Non abbiamo pranzato a mezzogiorno, in Gombezzo abbiamo preso un bel po' di caffè da chi si è accolto in casa e fermato. A loro va il molto grazie, la loro partecipazione è stata di una spontaneità che non vi dico. A tutti commoventi, a tratti commoventi, vi mandiamo questa lettera contenente 65 firme certi che servono di aiuto alla causa. Non si deve mollare, bisogna andare avanti e agire tutti uniti con determinazione. Il nostro ottimismo deriva dal fatto che si protesta per una causa giusta, nobile e utile alla comunità e la comunità deve aiutare tutti quelli che in questo momento si stanno prodigando per la riuscita dell'impresa, partecipando attivamente in massa alle manifestazioni. Tutti devono tenere a mente questo senza scoraggiarsi, oltretutto in tanti si sente anche meno freddo. L'atteggiamento che tanto non cambia niente non aiuta nessuno, anzi cambiare si può e si deve, basta volerlo. L'ospedale di tutti e serve a tutti. Un abbraccio da Giuseppe Andenoro e Pino Territo, due nostri emigrati a Torino che con questo accorato appello che lanciamo a tutta la comunità mussulmanese di parteciparsi e darsi da fare perché questo bene e prezioso ce lo dobbiamo sicuramente salvaguardare. Con le mani, con le unghie, con qualsiasi altra azione democratica ma incisiva ci dobbiamo riuscire. Altre firme? Altre firme, altre firme che si aggiungono. Aggiorniamo il fondatore. Parole, soltanto parole. o fatti, secondo lei cosa ci saranno? Soltanto parole? Parole, parole. Saranno anche fatti perché la popolazione ormai è sasperata. Quindi bisogna passare alle maniere forti secondo me. Parole, 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 parole. Niente faccio, voglia di fatto, no? Parole, caro signor Carmelo. Sono di più le parole o i fatti che verranno? Ma forse le parole sono sempre che io so ancora. Consigliere Negrelli, al cauto ottimismo stasera regna un po' di pessimismo. Perché? Molto pessimismo perché stamattina sono stato presente alla riunione all'assessorato della sanità. Abbiamo parlato, prima di iniziare ci sono state tante discussioni su quale provincia si doveva iniziare a parlare. Però poi alla fine la conferma è stata questa, che il piano è stato ripresentato dal dottor Regilio per come era stato bocciato dalla sesta commissione. E che quindi praticamente ci hanno confermato che i posti che avevano torto rimangono per come sono. Cioè vengono torti a discapito nostro e verranno dati a gelo. Ormai questa è la politica, siamo completamente abbandonati. Io alla dottoressa Murè ho chiesto ci sia. Quindi la salute di 70-80 mila persone che stanno perdendo il diritto alla salute non vi interessa. Non mi ha dato una risposta. Quindi ormai noi siamo, non lo so che cosa... E allora... Siamo stati abbandonati. Andiamo a vedere la riunione di questa sera, di questo comitato spontaneo che continua ad occupare l'aula consigliare di Francesca Sorce al comune di Mussomaglio. Arrivato a questo punto dobbiamo trovare dei nuovi metodi di lotta. Speriamo sempre democratici, però dobbiamo dare un cambio di marcia a questa nostra lotta per difendere, come dicevo prima, il diritto alla salute di questi cittadini. dei 16 comuni che resteranno, se va avanti questo piano di immodulazione per come ci hanno confermato stamattina, senza un'assistenza sanitaria. Questa è una cosa gravissima che in un paese, che si reputa un paese civile, non dovrebbe neanche esistere. Però quello che ci hanno confermato è questo. I nostri posti reti andranno a finire a genere. Questo. Questa è un'assistenza sanitaria, è un'assistenza sanitaria, è un'assistenza sanitaria. Questa è un'assistenza sanitaria, 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 è un'assistenza sanitaria. Forse da stasera credo che dobbiamo ricominciare la battaglia che si chiudono da chi dà da prima, forse da stasera, perché stamattina siamo stati all'assessorato. Dicevo che da stasera forse dobbiamo iniziare una lotta e deve essere futura di quella di prima, perché stamattina siamo stati all'assessorato in delegazione sindacale, c'erano qui poi pure presenti Osvaldo come l'Urso, c'erano i nostri rappresentanti regionali della CGL e nonché pure provinciali. Siamo arrivati là, c'era una mega riunione, eravamo almeno in una cinquantina, in una cinquantina di tutta la regione, tutti i sindacati della regione, in tutte le province. E c'era una gran confusione, tant'è che poi si è deciso di fare un calendario provincia per provincia per decidere cosa c'è da fare per questa prima situazione. Solo che mentre eravamo là, giravano dei fogli con un organigramma dei posteletto, solo che quando sono arrivati, come le galline si vittano tutto il gatto e non siamo riusciti ad averne uno. Però ha dato un'occhiata a Osvaldo e mi diceva che è la stessa identica coppia di quella che ci hanno presentato con i cinquantiquattro posteletto. Ok, allora, ci siamo un po' incazzati con la Morella, che la Morella rappresentava, stamattina rappresentava l'assessorato alla sanità, era uno dei più alti funzionari, un capo per gli abbre, un saccio chiede, un direttore dell'assessorato. Abbiamo presentato, abbiamo dato il nostro documento a firma unità dei quattro sindacati, abbiamo pure detto che la provincia di Caltanissetta, anche se complessivamente non perde posteletto, però nei dettagli sono spostati dei posteletto da un presidio a un altro. Guarda caso, da Mussonele sono stati spostati il 28 posteletto verso Gera, anche lei mi ha detto, ah, mi dice, però lei non deve dire questo, ci sta solo, mi ha detto, mi spiega lei al contrario, mi spiega lei al contrario, perché questi 28 posteletto sono andati a finire a Gera, mi dice, non capisci, io non ho capisco, in ogni caso noi abbiamo avuto un mera e proprio furco nel nostro presidio, e quando a me vengono a casa mia a rubare, magari ci riescono a rubare, ma prima o caso in avanti c'è un mio gruppo da tre, i cammini c'è, sai che faccio io, faccio io, faccio io, faccio io, faccio io, e sto peccando di qua, se sta al contrario, vediamo se oggi le rubo la sua borsetta, cosa ne pensa lei? Sicuramente, no che mi ha una borsetta, mi dice grazie, va bene, se ne può andare, quantomeno non gli ha tamato uno può farlo male ero degli esempi proprio per far capire che noi non ci stiamo assolutamente a questo vero e proprio furto a questo vero e proprio scippo che stanno facendo al nostro presidio e in ogni caso diciamo vabbè ma in ogni caso abbiamo diseguito allora quanto sarà e parleremo della provincia di Caltanessette grazie